cari amici telespettatori di legnano web tv e di ch calcio un buonasera da axel paderni siamo qua con romeo stefano dal bellissimo centro sportivo di cadempino e siamo qua agli allenamenti del vedeggio calcio e del raggruppamento sanzeno direi anche degli allievi comunque lo scorso anno stavate andando bene eravate quarti in classifica nel campionato di seconda lega poi purtroppo l'interruzione avevamo recuperato prima del covid l'ultima partita dell'andata era stata rinviata avevamo battuto il balerna 3 a 0 poi abbiamo iniziato con la prima contro il minusio la prima del ritorno abbiamo vinto anche lì 1 a 0 e dopo purtroppo come sapete tutti è successo qualche successo tutto interrotto e ancora adesso non si sa se inizieremo onestamente perché quello che scrivono i giornali non so se avete visto l'articolo la paginata sul corriere del ticino che se ci saranno ancora casi in squadre del calcio minore è facile che non si inizi del tutto perché ci sono state due squadre che hanno avuto problema di le non messi in quarantena in poche parole parlando un po sperando chiaramente auguriamo volendoci per il meglio perché giustamente insomma la situazione non è bella e diciamo che la speranza di tornare a una vita che sia normale insomma è la speranza di tutte diciamo che comunque tutto sommato l'ossatura della squadra è rimasta più o meno la stessa però ci sono comunque nuovi innesti sì abbiamo avuto diversi cambiamenti quest'anno abbiamo cambiato tutto lo staff degli allenatori anche degli allenatori diversi nuovi giocatori sono arrivati e tanti che sono qui questa sera allenarsi sono in prova dobbiamo ancora definire diversi dettagli abbiamo preso diversi giovani dal settore giovanile del lugano della under che 3 parlando un po di comunque di piazza la piazza di vedeggio comunque raggruppamento san seno è una delle piazze più importanti del canton ticino senza lasciando stare chiaramente quello che sono due società blasonate come il lugano calcio il chiasso calcio che chiaramente sono nei professionisti sono una cosa a sé però comunque voi siete militate nel massimo campionato del cantone e allo stesso tempo siete un punto di ritrovo per i giovani sì quello effettivamente ha detto anche degli altri siamo contenti di avere questa nomina e infatti tanti giocatori e tanti tanti ragazzi vogliono arrivare in questo centro anche per il centro medesimo perché penso che sia uno dei migliori nel ticino onestamente abbiamo un altro campo a vezia che comunque sì le strutture effettivamente magari sono quel quid in più però giustamente la qualità degli allenatori soprattutto anche nel settore giovanile è quello che fa la vera differenza ma stiamo cercando di arrivare ai livelli che eravamo diversi anni fa quando avevamo anche delle squadre in coca cola è stata vita anche una coppa ticino a livello giovanile avevamo un bel raggruppamento di allievi che a quei tempi non era ancora raggruppamento mentre adesso un po di anni a sta parte che è diventato sanzeno che però i giocatori sono tutti tesserati per la vede giocalcio perché la vede giocalcio in primis che ha organizzato questa cosa e quest'anno stiamo sempre in allestimento abbiamo un buon direttore diciamo del settore giovanile che si interessa molto dei ragazzi e sta cercando di fare e di portare più ragazzi possibili anche di qualità e vorremmo che anche a livello giovanile poter arrivare ancora in coca cola ecco l'obiettivo principale sarebbe quello quest'anno due tre squadre nel gruppo primo gruppo aglievi a aglievi b aglievi c e si cercherà di far qualcosa di positivo visto che adesso sono arrivati anche diversi giovani del settore giovanile del lugano c'è la possibilità che giochino o nella prima squadra però hanno l'età ancora di poter giocare gli allievi qui potrebbe anche sfruttare si alleneranno sempre con la prima squadra del vedeggio però c'è questa possibilità e quindi siamo siamo fiduciosi ecco di fare dei buoni campionati sia a livello giovanile che bene ringraziamo il signor romeo e passiamo alla prossima intervista continuando la nostra bellissima esperienza qui a cadempino siamo con riccardo fasanelli giocatore della seconda lega e del vedeggio calcio beh che dire finalmente si torna alle partite e finalmente riprendiamo sperando che non ci interrompono ancora perché il rischio c'è ad oggi quindi noi ci alleniamo con l'obiettivo di ricominciare poi vediamo cosa succede diciamo che insomma viviamo giorno per giorno questa situazione non è una cosa assolutamente divertente però giustamente il nostro obiettivo è tornare a giocare tornare a competere ma parlando un po di questo vedeggio calcio di seconda lega parlavamo con il vice presidente che insomma è cambiato un po lo staff sono cambiati un po alcuni giocatori e qual è l'obiettivo di questa stagione ma l'obiettivo è cercare di andare avanti il più possibile in Coppa Ticino la squadra è giovane è cambiato il mister hanno fatto un mix di giocatori di esperienza e molti giovani e vedremo ci lasciamo sorprendere vediamo dove possiamo arrivare la squadra è buona però continuando il nostro bellissimo servizio qui al centro sportivo di Cadempino siamo qua con Kevin Cadizzaro che è l'allenatore degli allievi B del raggruppamento San Zeno beh che dire ripartiamo con l'attività comunque San Zeno che è uno dei dicevamo col vice presidente del vedeggio che è uno proprio dei punti di incontro e soprattutto uno dei punti di forza del movimento calcistico del canton Ticino sì negli ultimi anni è una società che è rinata aveva la fortuna di avere delle grandi infrastrutture tanti campi i ragazzi hanno la possibilità di divertirsi di migliorare imparare e questa è una crescita che negli ultimi due anni è stata esponenziale parlando un po di numeri del raggruppamento San Zeno vogliamo dire ai nostri amici telespettatori più o meno quali sono e soprattutto quante squadre fanno parte del raggruppamento attualmente nel raggruppamento abbiamo sei squadre e ci sono 150 allievi compresi compresa la scuola calcio e comunque un settore dove abbiamo ogni squadra un numero abbastanza ampio di giocatori e attualmente la situazione è che abbiamo per ogni squadra dai due tre allenatori e i venti giocatori comunque c'è da dire che sì avete delle grandi infrastrutture ma come dicevo col vicepresidente la qualità li fanno gli allenatori soprattutto il tato umano e diciamo l'attenzione ai dettagli che mi sembra che date veramente è una cosa su cui puntiamo tanto per noi l'obiettivo è che il ragazzo faccia la borsa felice venga qua si diverta con gli amici che migliora che ha la possibilità di essere in un ambiente bello e competitivo penso che sia una delle nostre piccole forze bene amici telespettatori di legnano web tv e di ch calcio grazie veramente a kevin e grazie al vedeggio calcio e al raggruppamento sanzeno per averci ospitato e aver fatto vedere tutta la ripresa degli allenamenti e di tutte le attività e ci seguiamo ci rivediamo qua nei programmi di legnano web tv alla prossima grazie a tutti